Questo è un evaporatore termico, che serve per la realizzazione di sottili film metallici Nella fattispecie, adesso stiamo realizzando film metallici di palladio, che è un metallo di spessore non superiore ai 150 nanometri Montando i campioni su cui evaporare il metallo al di sopra di questo holder Questo holder andrà a essere montato, avvitato su questo supporto La camera verrà chiusa, verrà mandato sottovuoto Dopo che è andato sottovuoto vi sarà naturalmente la vera e propria evaporazione che avviene nel modo spiegato